La Banca d'Italia ha indetto i seguenti concorsi pubblici per l'assunzione di 18 esperti con orientamento nelle discipline economico-aziendali 10 esperti con orientamento nelle discipline economico-finanziarie 17 esperti con orientamento nelle discipline giuridiche 15 esperti con orientamento nelle discipline giuridiche per le esigenze delle segreterie tecniche dell'arbitro bancario-finanziario con sede a Milano, Torino, Bologna, Roma, Napoli, Bari e Palermo e della struttura centrale di coordinamento 10 esperti con orientamento nelle discipline statistiche 6 esperti con orientamento nelle discipline economico-politiche La domanda deve essere presentata entro il termine perentorio delle ore 16 del 5 febbraio 2018 Ora italiana Utilizzando esclusivamente l'applicazione disponibile sul sito internet della Banca d'Italia All'indirizzo www.banca d'Italia Sezione concorsi Seguendo le indicazioni La Banca d'Italia Al fine di assicurare l'efficacia e l'accelerite della procedura selettiva Organizza test per i selettivi per ciascuno dei concorsi per i quali sia pervenuto un numero di domande di partecipazione superiore alle 2 500 unit Al fine di assicurare l'efficacia e l'accelerite Al fine di assicurare l'efficacia e l'accelerite della procedura